Il movimento pugilistico in Irpina è in costante crescita. Alle rinomate e presenti da tempo, con Trada Box ed Accademia Cardamone, negli ultimi anni si sono aggiunte nuove realtà che, grazie alle testimonianze di gente del Calbrio di Carmine, Tomasone e Meldoniaco, stanno facendo avvicinare sempre più persone ad uno sport molto spesso messo in secondo piano. L'Irpina Pro Ring di Sandro Frongilio è nata tre anni fa in uno scantinato. Da circa un anno e mezzo ha aperto la nuova sede, che non ha visto però una risposta immediata da parte del circondario. Siamo in crescita, anche se la zona ancora non risponde come dovrebbe, però non ci possiamo lamentare. Perché poi questa è l'unica palestra del circondario, parlavo prima con i ragazzi a microfoni spenti, Crotta Minarda, Ariano, addirittura non hanno palestre, potrebbe essere un punto di raccolta per tutte queste zone? Sì, infatti è l'unica che sta nella zona della Valle d'Ufita, dove prende Ariano, anzi arriva anche Benevento, San Giorgio. Per quanto riguarda invece i ragazzi che andranno al torneo nazionale, come si chiamano e soprattutto quali sono le loro prospettive? Beh, abbiamo lo Junior, 57 kg, Boussata. È già il secondo anno che l'anno scorso ha fatto la finale. Speriamo che quest'anno riusciremo a arrivare in finale e vincerla. Tutto questo non è inciso però sulla qualità degli atleti che quotidianamente si allenano sotto legida di Frongillo. Tra questi Luciano Faretra che da Grotta Minarda ogni giorno in pullman raggiunge calore di Mirabella per allenarsi. Quest'anno cercheremo di dare il meglio di noi e di metterci in forma soprattutto con le gambe e di allenarci ancora al meglio per il titolo italiano da dilettante. Anche perché tu hai già un'esperienza in nazionale, che esperienza è stata? Una bellissima esperienza che ci ritorneremo a andare se Dio vuole, sempre se Dio vuole. Una realtà l'Irpinia Pro Ring è diventata quasi una famiglia. Simpatica la storia dei due fratelli Nassim e Bilal Boussad. Il maggiore deve addirittura combattere al torneo nazionale junior che si terrà dal 7 a 9 aprile al Cuneo, mentre il minore non è ancora esordito per limiti di età. Mi è piaciuto molto e credo che questa esperienza dovrebbero farla tutti quanti, perché è molto bello andare a combattere, anche se alcuni dicono che si potrebbe far male, ma non è vero. Tu ti chiami? Bilal Bilal? Boussada Diciamo tu hai 11 anni però si parla un gran bene di te, come ti trovi in questa palestra? Molto bene. Purtroppo non puoi fare ancora il tuo esordio, però ti diverti e poi sappiamo che sei il fratello di Nassim, a casa come funzionano le cose? Fate fuggilato quando ridicate oppure fate pace in un'altra maniera? Facciamo pace in un'altra maniera.